Siamo vicino al weekend, fate attenzione agli alcolici perché le calorie degli alcolici sono calorie vuote nel senso che noi non abbiamo un fabbisogno di alcol, abbiamo un fabbisogno di proteine, fabbisogno persino di grassi, di carboidrati, di zuccheri, però di alcol non abbiamo un fabbisogno quindi sono calorie che sono in più, sono inutili nel nostro organismo, non hanno una funzione quindi sono calorie che vengono immagazzinate come grasso e anzi se consumiamo l'alcol vicino al cibo anche il cibo che mangiamo viene immagazzinato più facilmente in grassi, inoltre l'alcol trattiene i liquidi a tante calorie perché ha 7 calorie per grammo, quasi come i grassi che ne hanno 9 quindi l'alcol fa ingrassare tantissimo e se usciamo a bere qualcosa meglio allora prendere la cosa più nociva potrebbe essere una birra piccola oppure se vi piace il vino preferite il vino rosso rispetto al vino bianco perché ha meno zuccheri. Buon weekend allora!